I've been working after work since last September I say I'm late on the weekdays I never tell when we say Bella ragazzi, bella guys, bella tutti Siamo tornati nel secondo episodio Della One Block Dungeons Questa mappa di Minecraft Adventure Che è iniziato Un po' di giorni fa Allora, che possiamo dire? Con questi versi Che sembra il Discord Quando entriamo in chiamata Quando parliamo noi, sembriamo Che immagino sia qui dietro Questa la posso spaccare? Non posso spaccare Allora, libreria Ha bisogno di... Oh, queste si pigliano subito Allora, c'era scritto lì Non sai distinguere... Oh, un altro libro Nota al capitano Però sicuramente visto una roba che pensavo fosse adensita In realtà è una shulker con dentro una chiave Allora, queste creature Abbiamo bloccato il passaggio alla libreria Perfetto Cioè, perfetto un cazzo Perché nella libreria ci devo passare io Comunque Questa è adensite No, mi sa che era là indietro Sicuro No, no, cos'è? No, non prende knockback È finita No, non prende knockback Mortale? No, no, dai Scusami No, no, muoio Ma è normale? Che uno abbia... No, chiudi ste robe Chiudi Ragazzi, mi ha quasi ucciso Un endermite Quanta vita hanno? Scusate Calmi Questo episodio è iniziato tipo a cannone Non ho capito niente Allora Allora Carichiamoci un attimo la vita Mangia sta roba qui Carichiamoci un attimo la vita Entriamo qua E affrontiamo Ce ne erano due Ce ne erano un altro Sicuramente in sostanza ci sarà una shulker box No, non incastra... Chiudi sta roba Ragazzi, devo combattere così per forza Se no sono morto Se mi colpisce Muoio Muoio No, raga Oddio, sì Mi sono cagato addosso Allora Andiamo avanti Prima diceva che c'era una shulker box Da qualche parte qui Perché questa è adensite Sicuramente una la misserò Eccola Easy Allora Può essere piazzata su Iron Block Ok, dobbiamo cercare l'Iron Block No, sta roba Il panino Cioè, il panino Devo mangiare carne umana Che schifo Qua sento invece i mostri Ho ben capito che sono overpower di Endermite Con gli occhi rossi Cioè, cose senza senso Immagino qui vada messa Sul ferro Easy Grazie Mmm Cosa c'è qui dietro? Oh, cos'è? Eh, sì Va bene Tutta sta gente cos'è? Vabbè, ma io se sto qua Cos'è sto casino? Oh, quanto ma... Eh? Che cazzo è? Questi sono I vecchi fan di Tesla Tesla, ma Potterworld 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 Sono loro Mori Ragazzi, ma stiamo scherzando Fanno un danno insane Sti cosi Ma insane Ma tolto tutta la vita Un mo... No, un'altra chiave Sarebbe smettere sto roba Ci sarà qualcosa incastrato In sto mini labirinto Maledetto Poi qua sicuramente Non posso alzarmi Non si sa perché non posso alzare Oh, shulker box Chiave? Easy Ok Credo che le chiavi sono O nelle shulker box O comunque Piazza subito sta roba Via da qui Allora Barili Una via di qua Di quale si può andare No Prego dimmi che sono I silver Perché ci sono gli endermed E' finita C'è una pressure Ho paura Bu Io l'ho cliccata Non so che è successo Non ho sentito Non ho sentito in realtà Meccanismi che si attivavano Quella pressure Secondo me serve a qualcosa Ci dobbiamo tornare dopo Sicuro Sicuro come Ma voi state scherzo Cos'è una presa per il culo I ragni davvero Sta roba ovviamente Non posso aprirla Meno male Lasciamola chiusa No 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 Madonna che sbocco Vaffanculo Ma mori Sparisci Sparisci Mostro Che cazzo Vogliono Ma questi Li abbiamo masterati Sono diventati easy Questi Andiamo avanti Ok Sto dicendo Che cazzo serve Questa stanza Se non posso andare Nota Ora nessuno Potrà entrare nella casa Senza il permesso Ma io devo scappare Non ci devo entrare Ciao Madonna che coso Qua perché c'è sta roba? Che serve? Oh Aspetta un attimo Ma Certo che Sono stronzi E mi continuano a far vedere L'esterno Cioè io devo uscire Da sto posto Allora Scusi eh Vabbè ma se stai così A me va bene Continuiamo così all'infinito? Non lo so 85 colpi Va bene Ah qui in fondo vedo Cos'è? No Dai devo passare No perché Perché Aspetta vediamo Magari riesco da qua Si Rusty Webcutter Grazie Grazie Oh Che cosa bella Poter distruggire Queste ragnatele È È Bello Finalmente Tiro dritto Allora Qua sento Gente simpatica Ciao Mi fate la cortesia Vi di levarvi Dalle Oh Ma quanto No Ma tolgono una roba Insane Ma non ha senso Mori Mori Ragazzi Immortale Oh Figa Muore Sto coso La sostanza è Abnorme Il problema è che sento altri Sgorbi Qui nelle vicinanze Perché Qui ti fa andare avanti Ma Prima io vorrei andare a vedere qua Checkpoint Così Aia Fa Culo va Easy Checkpoint Pause Perché Madonna Sta È simpatica Però adesso la stiamo facendo impeccabile Non siamo ancora morti Rischiato Sì Rischiato Sì Però Si va Si va avanti Si va Ok ragazzi Direi di lasciare Dopo un attimino di pause La Restrooms In checkpoint Andiamo Subito Avanti Allora che c'è Stati qua Slab random Se mi ha dato il web cutter Questo lo posso aprire Premesso Uh Perché mi da sta roba Perché mi da la bus No Perché mi da la bus Oh Ma che cazzo fate I jumps Che Figa Poi su Minecraft Mi devi fare i jumps Moi Bestia Ho sfondato l'ascia di doro Sono un cretino Sono Perché Easy Ma ragazzi Non perde Uh Jumpbreaking BG Allora Andiamo avanti Purtroppo Mi sa che ho spaccato Io spero che non Non servisse Perché se serviva Sono fregato Sono Io non ci torno indietro Allora Cosa c'è di qui I recinti Guardiamo se c'è Guardiamo Eh Non so parlare Guardiamoci sempre in giro Perché Qua Ehi Eccola qua Però qua c'è una cesta Ti prego dammi qualcosa di Tipo questo Subito Ah tipo Queste le lasciamo qua Perché abbiamo capito Che non serve a niente Sta Sta birra Storta E organizziamoci un attimo L'inventario Pugliamo queste tre E qua mettiamo Le mie dai Ok 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 Allora andiamo avanti Mangiamo E si scava Easy Ragazzi stiamo andando veloci Mi auguro Perché se no è un problema Allora No 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 E mo dove cazzo va No che fa Allora Tirerei in realtà dritto di qua Cioè Oddio Mi auguro Sia di qui Perché qua mi dà la possibilità di spaccare Quindi Si vede in cazzo Non si vede Au Comincio a capire perché mi ha dato il compasso Il Sì il compasso Ciao Comincio a capire perché mi ha dato il Che simpatici Eh Sì No È uno scherzo La finirai Ma Pensavo fossi più lento La finirai In due episodi Si Dicevano Adesso diventa una serie principale Diventa 45 episodi Per uscire da sto posto di merda Allora Cosa c'è qui dietro Non c'è un cazzo Non c'è Ah Questo Night vision Subito Subito Oh Va che roba Va la nitidezza Va come si vede bene Oh Va che bello Subito ce la si tira Ragazzi Mi sa che ci ribecchiamo quando Trovo la continuazione Perché se no è finita Cioè Vedete un video dove Giro qua dentro e basta Ragazzi In realtà la pausa è durata Cioè Il taglio è durato poco Perché forse ho trovato la continuazione Oh Cos' Cos'era quel coso? Ma l'ho shottato Bene Direi che non era la continuazione Scherzavo Ci ribecchiamo dopo Allora Dopo un simpatico taglio Dove ho incontrato Un altro magma Mini coso Lì Delle bacche E ho trovato Un elmetto in ferro Più Altri due silverfish Un bottino di merda Comunque Vabbè A parte questo Sono arrivato Credo Spero alla fine Ti prego Sì Mi auguro Almeno sia la fine Perché io non ci torno Lì dietro Cioè Bene Addio È stato bello Arrivederci Dai ragazzi Ma cos'è Adesso è veramente Magma block Bene Per ora No È tutto in magma Che cosa brutta Devo camminare in un blocco Se mi colpiscono Finisco sulla lava Sono morto Bisogna passare lentamente Perfetto Perfetto Cosa c'è qui Altri magma block Io mi auguro Che sia di qui Cioè Immagino di sì Perché se no Bella cortesia di levarti Grazie Pure tu Addio Sembra di qua Cos'è sta torcia Tutti uguali Queste stanze Non lo so Ma No No Stai scherzando No no Voi state scherzando Voi siete fuori Aspetta Dimmi che c'è un check point No 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 Fermi Fermi tutti Allora Si fa così Bene Allora Facciamo così Non si può fare No 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 Allora Mi pare di aver capito Che Se mi dà quella roba lì C'è scritto Non aprire C'è un mostro dentro Vuol dire che c'è un mini boss Quindi Io direi che possiamo affrontarlo la prossima volta Perché Di morire Non ho voglia Pensavo che la serie finisse in due episodi Invece no Fatemi sapere appunto Se Vi prende anche voi Comunque in ogni caso lo finirò La finirò assolutamente questa miniserie Detto questo Io Vi saluto E noi Ci rivecchiamo A un prossimo episodio Della One block Dungeons Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie.